Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video come avete potuto capire dal titolo così come da questo pacco oggi facciamo unboxing e io sono super super contenta perché è successa questa cosa ho trovato questo brand su Instagram mi sono praticamente innamorata di ogni outfit che avevano sul profilo e poi ho ricevuto la proposta di collaborazione per cui siamo qui abbiamo ricevuto il pacco e stiamo per aprirlo di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cider, non so se vi è capitato di trovarlo in giro su Instagram perché sta spopolando parecchio ultimamente e ci sono buone ragioni perché succeda, questo prima di tutto hanno outfit di ogni tipo, praticamente per ogni gusto e ogni mood che puoi immaginare se sei una tipo me nata negli anni 90 che adora comunque vestirsi alla moda e vestire capi di tendenza è il posto che fa per te se sei invece una generation Z o XY dove siamo arrivati con le generazioni? non lo so anche mia sorella ad esempio che è più vicino ai 2000 ha trovato cose molto molto belle che adora anche lei ma in generale cioè facendomi un giro su Instagram su TikTok e sul web su YouTube ho trovato un sacco di ragazze che indossano già capi di questo brand e sono di età completamente diverse tra di loro per cui qualsiasi sia il tuo mood o il vibe che vuoi trasmettere è il posto giusto per te tra l'altro una cosa che trovo geniale è il fatto che sul sito puoi praticamente filtrare per tipologia di mood che senti di voler trasmettere o che senti in un determinato giorno tipo se sei entusiasta trovi una sezione di outfit per te quando sei entusiasta se sei invece un pochino più mood di un giorno trovi la sezione giusta per quel tipo di sensazione se ti senti un pochino più flirty trovi anche quello cioè ci sono talmente tante opzioni e mood e possibilità che sento che può accondentare veramente una fetta gigantesca di noi ragazze e donne e poi comunque questa cosa del fatto di trovare un sacco di outfit un sacco di stili abbinata alla fascia di prezzo che è veramente molto molto bassa fate conto che siamo sulla fascia 20-30 euro non di più per capo e comunque adesso vi farò vedere i pezzi che ho scelto io tutti insieme stanno sotto i 150 euro dovrei riuscire a ricreare tre outfit diversi con questi capi e quindi tre outfit completi sotto i 150 euro direi che è un'ottima soluzione infine una cosa fondamentale è il fatto che offrono la spedizione gratuita per ordini sopra i 39 euro wow e poi ricordatevi sempre ci sono i 20% per i nuovi iscritti e infine alla fine di questo video andate sotto nella descrizione del video per trovare esattamente il link con il codice sconto per andare direttamente al sito scegliere quelli che preferite voi di capi e poi ovviamente sotto troverete anche tutti i link agli outfit invece che scelto io e adesso passiamo direi agli outfit perché io non vedo letteralmente l'ora fate conto che ho ricevuto il pacco qualche giorno fa e mi sono trattenuta dall'aprirlo non so neanche come ho fatto perché non vedevo letteralmente l'ora di vedere tutti i capi che ho scelto e che già sul sito erano veramente spettacolari ok dovevamo prendere subito i capi ma qui c'è qualcosa di molto colorato che ha attirato la mia attenzione e sono degli adesivi ma guardate che cosa carina che sono wow abbiamo cider camp 2022 2022 passato ce lo lasciamo indietro foto wow troppo carino troppo troppo io adoro gli adesivi li adoro talmente tanto che non li uso mai perché non li voglio sprecare ma quest'anno ho iniziato proprio a usare tutto senza pietà quaderni nuovi adesivi nuovi non si lascia niente a marcire allora da cosa parto partiamo dal primo pezzo che è quello che volevo in assoluto più di tutti poi ovviamente facendomi il giro sul sito ho trovato delle cose che mi sono piaciute tantissimo però questi sono i pantaloni che volevo già di mio acquistare sono ovviamente un pezzo molto di tendenza sono dei pantaloni a gamba larga in velluto sono tipo color avorio morbidissimi la qualità è veramente wow non me l'aspettavo per un prezzo così basso e poi hanno questi dettagli tipo a corsetto sulla vita e li trovo davvero stupendi sono bellissimi comodissimi super alla moda e stanno su che sono una meraviglia insieme a questo pezzo di tendenza perché i pantaloni color crema avorio in velluto li stiamo vedendo un po' ovunque infatti anche un po' di mie amiche ce l'hanno già e ovviamente li volevo anch'io insieme a questi pantaloni abbiamo anche questo bellissimo maglione questo ragazze sembra un po' scontato no ma non lo è cioè tutte lo dobbiamo avere perché lo stanno indossando tutte le più grandi influencer su instagram e non possiamo rimanere indietro questo è un maglione stile polo a righe nere ed è in maglia però anche lui è morbidissimo vorrei indossarlo e non toglierlo mai più questo maglione ovviamente è stato preso uno perché è super di tendenza due perché si abbinava bene ai pantaloni il terzo pezzo che però vorrei abbinare a questi pantaloni è questo top ma questo non l'ho preso solo da abbinare a questi pantaloni ma l'ho preso da abbinare anche a tante altre cosine perché è un toppettino cangiante tipo iridescente bellissimo guardate il gioco di colore è meraviglioso lo trovo veramente stupendo guardate qua sole aiutami io veramente lo trovo stupendo poi lo stile è veramente super super sexy perché questo gioco sulla vita è proprio quello che ci voleva e non vedo l'ora che arrivi l'estate per poterlo indossare senza niente sopra ma ovviamente in inverno mettiamo su una giacca un pochino più pesante ci scopriamo solo quando arriviamo dove stiamo andando e direi che perfetto anche così poi abbiamo un secondo maglione che di nuovo può essere abbinato a questi pantaloni perché questi pantaloni l'avete capito sono il pezzo forte di questo video abbiamo questo maglione bellissimo di nuovo sono veramente stupita dalla morbidezza e dalla comodità di questi capi non pizzicano sono super morbidi super di qualità e questo mi lascia veramente senza parole visto il prezzo questo è un maglione a maniche lunghe color lillino con motivo a cuori i cuori sono in rilievo e sarà un po' scontata ma si sta avvicinando San Valentino e volevo farmi un regalo e volevo una cosa romantica da indossare ad un appuntamento con me perché faremo tipo serata Bridget Jones mi manca ancora il numero 2 il numero 3 per cui perfetto ma a parte gli scherzi questo maglione è di una morbidezza che non non so vorrei potervelo far toccare guardate qua è veramente stupendo spero di potervi rendere l'idea attraverso il video avvicinandovelo di quanto sia morbido questo maglione super super comodo anche lui ovviamente come vi ho già fatto vedere perfetto con questi pantaloni ma si abbinerà a un sacco di altre cose poi queste maniche a sbuffo mi stanno dando proprio le vibe giuste quelle che stavo proprio cercando infine abbiamo un ultimo capo no scusate mi sono persa questi ho preso anche un paio di calzini perché mi danno tipo vibe primavera sono stupendi guardate sono meravigliosi io adoro indossare i calzini che si vedono fuori dalle scarpe e questi di nuovo insieme a questi pantaloni guardate qua e insieme a questo maglione sono proprio le vibe che stavo cercando e devo dire che i colori stanno veramente alla perfezione insieme non vi ho fatto vedere da vicino questo maglione ma guardate qua è stupendo cioè è un maglione poi perfetto per adesso che fa più freddo da indossare sopra un maglioncino proprio sottile un qualcosa proprio uno strato sotto molto caldo oppure sarà perfetto per tra un mesetto quando cominciano ad arrivare i giorni più caldi perché questo senza niente sotto solo una magliettina leggera sarà perfetto e poi è talmente bello che è un peccato nasconderlo sotto le giacche è proprio stupendo infine abbiamo un ultimo pezzo che sono questi pantaloni a palazzo sono bellissimi a quadratini guardate qua che meraviglia hanno anche la cintura incorporata e sono a vita alta altissima come piace a me sono di super qualità anche questi e li sto amando tantissimo anche perché i colori sono bellissimi sono marrone nero e beige che sono davvero bellissimi e si abbinano con tante tante opzioni e questi sono tagli a XS così come tutti gli altri pezzi e una cosa fondamentale è che Cider è veramente body inclusive e tutte le taglie sono disponibili da XS a 4XL nessuno rimane escluso e questa è davvero una cosa che trovo bellissima ritorno comunque a questi pantaloni perché io un paio di pantaloni così li volevo da secoli sono super eleganti super morbidi super comodi però rimangono dritti non si stropicciano troppo e sono perfetti prima di tutto per l'ufficio ma poi anche per altre occasioni anche perché avendo la vita così alta li posso indossare con un top super corto e saranno comunque perfetti abbiamo finito l'unboxing per oggi io vi confesso che avevo grandi aspettative su questo brand visto live che si è creato intorno e vi confesso che non è stato disatteso tutti i capi sono veramente di qualità di una morbidezza proprio assoluta e sono veramente comodi e mi sento di dirvi che dovete farvi un giro sul sito e scegliere le cose che più vi piacciono ma se state cercando dei pezzi di tendenza tipo quelli che ho scelto io vi lascio qui sotto tutti i link troverete anche il link con lo sconto per utilizzarlo andate direttamente sul sito fatemi sapere quale tra quelli che ho scelto io è il vostro preferito e fatemi invece sapere che cosa trovate di carino sul sito perché sono super curiosa io vi saluto per oggi è tutto vi mando un mega abbraccio gigantesco ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video ciao ciao